oltre 12.net essere, e creare, nell'eterno presente. Gaia Portal, flussi di illuminazione muovono la umanità a colore nel prossimo livello. Flussi di illuminazione muovono la umanità a colore, o emaniti, nel prossimo livello. Le difficoltà negli avanzamenti sono appianate e corrette. Gli elementi delle infatuazioni sono presi in considerazione e dissolti. Le fioriture della consapevolezza interiore si rendono visibili. Fonte, gaiaportal.wordpress.com Traduzione, www.oltre12.net www.oltre12.net